ciao a tutti squali pesciolini benvenuti in questo nuovo video di pokémon mo oggi sono in compagnia di mavi dd e c'è anche siete spacciati che non si sa se riesce ad entrare quindi pensiamo andiamo avanti andiamo avanti con la storia si vede qua ma mi fidano prima prima di andare avanti scusa un attimo cacchetta io devo aggiungere la gente che ci ha contattato la gente che si è contattato su youtube allora come vedete nel non potete vederlo aprilo cacchetta che devo vedere come lo avevo? menù e vai su team fa vedere quanta gente c'è mamma mia mamma mia mamma mia oh voglio schermo oh scherzato c'è un sacco di gente hai visto quanta gente? no veramente giocano in diretta giocano il problema che due già l'hanno finito il gioco allora io sto aggiungendo fadding wall tu aggiungi io vado avanti scoccio no fadding wall 2 non esiste sono entrato nella casetta oh dobbiamo prendere il biglietto della nave no ho scoperto mammi ti ricordi che tu dicesti dissi dicesti dissi no che non tipo non potevi non potevi andare all'altra città invece si può fare se sconfiggi la lega nell'altra città cioè ti dai biglietto per andare o comunque avviso fadding wall 55 di youtube come caspita faccio da aggiungerti che dice che non esisti e vai avrà sbagliato a dare il nick non mi danno nemmo giusto che ti aggiungo ci dai nick nick del gioco proprio cioè come sta scritto non ti chiami sul gioco o cazzo niente non è stato sono graziosi due voli man mano per la città manciano le bici e bici che che i bici che ma ma io devo raggiungere dove stai per questo sentimento allora vediamo un po minimum minimum gli butto una bella pistola acqua e la pistola trafico idro acqua idro impulso su e super sufficiente mi ha sciottato e pokemon vai 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 che ce la fai mi ha parlato il professore come subito è pure a me ha detto sentito io ne vai avanti sì coraggio scelgo te sì coraggio attenzione cadavra riceve 380 di ex e ma l'abbiamo detto che nel torino la nel tendone lotta alla fine l'ho vinto tutte e tre ma le mamme di riuscire a vincere 3 e gli hanno dato una pozione del cazzo minuto cioè è fatto un culo ma vabbè va bene così bambini così e lo diciamo solo a me ok ma tutto è veramente registrando mentre stai ammazzando gli allenatori ma è normale il 18 uso cadavra cadavra isabella mamma di queste sabbe è bella isabella comunque ragazzi scriveteci nei commenti come vi piacerebbe che questa serie fosse ampliata cioè scriveteci un po fateci fatti ma vaffanculo sto manzi io ho pensato pensato una cosa non lo so proprio così su due su due su mille piedi cioè su due piedi vorrei fare se siete molta gente vorrei fare un torneo di proprio di pokemon ma tu lo sai che se clicchi col destro che cazzo ho fatto ma dove che notico ci sfidiamo tra di noi lo facciamo nulla poi selezionare torneo allora facciamo proprio una sorta di torneo vedi che ha uccidendo gli allenatori fai qualcosa a posto di stare in silenzio come fai tu comunque ripeto possiamo fare una sorta di di torneo esiste una un'opzione predefinita per fare torneo lo sai ho capito quindi possiamo fare una sorta di torneo se siete parecchi di voi e gg che parliamo cioè ci divertiamo insieme quindi parliamo no vabbè no ci divertiamo possiamo andare avanti ci scambiamo idee ci scambiamo pokemon se volete non lo so ci hanno chiesto nei commenti fai vedere a come si fa a scambiare a vendere un pokemon su poco meno appena finisce i combattimenti i contatti appena appena mi ha ucciso livello 22 non 14 ma che cazzo di pokemon ci hanno stico e cioè nel pokemon elettrico mi sta a sentire usa usa quella merda di di cadavre cazzo di tutti cadavre me l'hanno sottato come tra me sottato io c'è un pesi coraggio più 18 ma che livello c'è la natura c'ho a 23 cadavra 22 quello base poi c'ho questo qua livello 12 io li sto sottando con marston però aggiunto isabel isa cazzo sul mamma allora ma dopo allora dopo che facciamo 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 facciate come si vende mi non mi sto andando a curare i pochi non intanto ma vada cura vada cura tanto ma non ci metto bene ci mette tempo devo aspettarlo io ovviamente amara minchia devo aspettare mani deve aspettare mani ciao isabella di sto cazzo hai vinto quasi quasi allenando l'ho tanto l'ombre e provare una nota con l'ota io però ok non tu non ho messo con nessuno io amami voglio la bicicletta voglia la musichetta è la bicicletta vabbè o poi ma anche il viso che dc stoppiamo stoppiamo a don 1 ma non siamo qua c'è una vecchia ma cazzo ti ferrò aspetta ma no no siamo andata vanno noi faccio vedere sta una casetta che cazzo vuole addirittura ma è che con la casa ma quasi non non si può che cazzo erano non ho letto non mi interessa è una pergamena e tu non dici un cazzo non lo so fate di dire però si va avanti qua quindi inutile che lo stoppiamo l'ombre diventato uomo sto imparando bruciatele mi sembra che a sinistra qua ci siano all'elle non lo so ve li stoppo questi ma mi sono un sacco di allenatori che ci vanno allora ci sentiamo dopo rieccoci ragazzi abbiamo sconfitto sconfitto tutti di là e ci siamo presi un po' di di pokeball e continuiamo allora questa uuuh cacchetta trovo super colpo non so che cazzo serve dove vediamo allora qui allora ho trovato dei pokemon speciali nell'erba da da queste parti allora andiamo avanti questo mi sa che è quello del team idrono è un piccolo testa di cazzo allora comunque ho ripreso a prendere ho ripreso il video perché dopo tutto lungo questa strada dovrebbe esserci la città non voglio dire cazzate però ci sono degli allenatori non lo so penso che non necessitava trovata città no 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 ma attraversi questo dovrebbe stare dovrebbe stare la città però mi sa che troviamo qualche allenatore oh aron sti kiwi no lo sciottico psicologico sciotti pure quell'altro psicologico no dai allora questo è un piccolo bulletto che è un testa di cazzo è un testa di cazzo alla fine e ci da 240 allora andiamo avanti sperando che nessuno ci attacca sperando ah ecco perché ecco io ricordavo c'era vera cacchetta quanto tempo aspetta fammi leggere la storia allora mentre cercavo altri pokemon i miei sono diventati molto più forti quindi che ne dici di una lotta va bene va bene vera lottiamo lottiamo contro la nostra vera amica eh amica vera ragazzi non so se è normale se che io il secondo pokemon salvato che trovo ma perché non ne trovo manco uno e sto andando avanti con la storia easy allora c'ha un wingul livello 18 bello io ce l'ho al 16 mi sembra comunque bello ma soprattutto tu dove ce l'hai se lui ce l'hai in ghoul eh si quello è ovvio allora vediamo dopo wingul che caccia questa andiamo un poco oh cadavro a 25 uh lambre lambre bello sto pokemon ce l'ho io è l'evoluzione di lotad esatto ce l'ho io comunque ce l'ho io o meno per cazzo chi cazzo fa abbastanza danni si è un buon pokemon comunque l'hombre ovvero lottato questo dovrebbe averci infatti cazzo come fa davvero ah no questa è la seconda evoluzione o è la terza non lo so mi sembra che hai visto hai visto grovil come pokemon che è grovil eh mo vedrai quando tromette contro è una specie di drago strano no sono diversi pokemon tramite io ah perchè abbiamo scelte diverse cioè abbiamo starter diversi vero aspetta cacchetta nei fatti di allenamenti vero eh si ti meriti un premio ti do questo decoder cosa che ti ha dato questo è un decoder va a cacare allora ho provare e mette insomma se lo realizzano strumento anche se non è visibile no che è malattia ma va cacca non me ne fotte allora lo so che tu abbia bisogno ancora per la lega giusto la prossima volta detector aspetta voglio usarlo proviamo questa nuova cosa detector cazzo sto studiando in teoria penso che lo devi mettere tra gli f in alto detector ecco aspetta prendiamo un po ma dove c'è lo dove c'è lo risorice boh aspetta aspetta dove c'è lo risorice ah ah non te lo dici in chat is not found oh ecco mi sa che questo è il professore no allora sto per il video ci vediamo più avanti a dopo e rieccoci ragazzi siamo arrivati a ciclam ciclamipoli vabbè che cazzo di nome di merda allora qua c'è la palestra e a destra mi sembra c'è quello che quello che vende le biciclette aspetta lino aspetta ah sto continuando allora ma non pensi di esagerare non devo sfidare subito nella palestra no non sto esagerando io e razz possiamo battere chiunque ok e questo mi sfiderà sarebbe il mio divale giusto lino non mi ricordo come l'ho messo non so chi hai messo ah che credeva sì allora mi ricordavo che questo ci sfidava allora in poche parole ripuliamo qua e penso che andiamo a destra a vedere se se calio mi sembra hanno detto cioè ho parlato uno di qua ma vi faccio vedere chi il ciccione mi sembra uno di là ha detto che calio è molto generoso ci donerà una bicicletta e negozio di calio sta provando a nostra destra io sono bloccato perché non ho letto un cazzo di quello che mi ha detto ora mi fa scegliere tra bici da corso bici da cross e aspetta un momento io veniamo allora abbiamo distrutto lino che sarebbe il nostro rivale sarebbe il nostro rivale sarebbe 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 allora lino zio ritornerò a mentanea cacchetta è difficile farlo all'allenatore vero no basta vedete la far lottare ok non buttarti giù nessuno ti impedisce di diventare sempre più forte allora dai andiamo a casa ti stanno aspettando tutti ok parla di quello cacchetta mi sono appena reso conto che sei un allenatore con chi sei un allenatore che hai aiutato lino a catturare il suo pokemon perchè non ci viene a trovare ahm lino non è il mio rivale quel coglione che gli abbiamo aiutato il catturato ah quello di Wiggle è lui ah Scott eh si eh stavo guardando la lotta tu e quelli non siete amici non è vero ma tu tu hai dato il meglio di te e le battute in minera di esemplare sì questo è vero potresti anche esaltare no perché scusa allora in poche parole cazzo ha detto questo vabbè nel prossimo video sicuramente andremo a esplorare la cioè andiamo a fare la cosa mentre pia la bici sì poi la pia la bici penso che sto piano il video allora questo in questo video facciamo la palestra il prossimo video si la palestra penso che la sciocchiamo direi che la facciamo implodere questo è Caio giusto? tizio e Caio allora bene qui abbiamo un cliente ok mi chiamo Cle Clelio vabbè la stia arrivi da molto lontano sì mi stai dicendo che arrivi d'Albanova non ci picchia ne hai fatta di strada con una dove potresti andare non vale non carezza il viso ti regalo una bici ah aspetta un attimo ho dimenticato di dirti che ci sono due tipi di bici la bici da corsa e la bici da cross la bici da corsa è per ciclisti che amano correre l'ambiti del vento la bici da cross è presente per le cose più tecniche io prendo la corsa è più veloce allora facciamo una cosa prendiamo le 1 e 1 così nel caso ce le scambiamo io via da cross ok ci ha dato la bicicletta la bicicletta la possiamo no puoi venire a cambiarla o a cagare vabbè la bicicletta la troviamo qua nel bag mettiamo gli items e la troviamo qua la potete mettere dove volete voi io lo metto nel f3 perché qualcosa vi dico non funziona perché non funziona ok aspetta qui sono un paio del retro ok si grazie allora un po' ci ha spiegato un paio di strontate un po' andiamo avanti c'è un pirla che sta correndo con la bici ok guarda come cazzo vado veloce facciamo la corsa vieni qua vieni qua 3 2 aspetta 3 2 1 vai si è partito prima non va vabbè comunque aspettate un attimo mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa questo qua qua dentro vi danno spaccaroccia le mn spaccaroccia allora non si toglie la bici allora spero che il video vi sia piaciuto come al solito lasciate tanti like mettete lasciate tanti commenti ho visto che molta gente ci chiede di voler entrare nel clan scrivete il nome il nome del gioco come vi chiamate non il nome del gioco il nome nel gioco il gioco nel gioco vabbè va a cagare mi stai facendo impallare vabbè ci vediamo nel prossimo episodio che andremo a sfidare la palestra di Ciclamipoli vabbè la palestra vabbè il cazzetto qua a tutti ciao ciao ciao